Su quale aspetto del suo intervento vuole lasciare il principale messaggio? Visto la giornata di oggi e l'importanza, è parlare di telecomunicazione e sicurezza nazionale. In che modo possiamo garantire la sicurezza nazionale tramite una sicurezza delle nostre reti? Il problema è più ampio, perché quando parliamo di sicurezza delle rete e delle comunicazioni dobbiamo tenere conto che c'è un problema di tecnologia, c'è un problema di cyber security, ma c'è anche un problema di sicurezza economica. È evidente che se non abbiamo un'autonomia, quantomeno europea se non nazionale, su queste tecnologie, non le conosciamo, non riusciamo a far crescere una filiera produttiva, saremo soggetti a fornitori esteri, saremo soggetti a tutta una serie di problematiche che ci porteremo dentro. È fondamentale ripensare al nostro modello di non essere solo utilizzatori delle tecnologie, ma essere in grado di produrle, di essere leader in questi aspetti e di poterle veramente gestire. Quindi sicurezza fisica è importante, sicurezza cyber è importante, ma anche la sicurezza economica. Una sua opinione su 5G&Co? È un ambiente in cui possiamo confrontarci, un ambiente in cui riusciamo a esprimere le problematiche e le soluzioni di un dominio complesso, di un dominio estremamente dinamico, in cui è necessario avere un costante confronto fra chi porta avanti le tecnologie, fra chi porta avanti i processi e chi sono gli utilizzatori e noi che facciamo Accademia. Grazie.